Chi sperava di far passare gli aspetti autorizzativi nel silenzio, complice alla calura della stagione estiva, adesso si starà leccando le ferite perché è evidente che la città di Brindisi, come al solito in ritardo, ha preso consapevolezza dell'importanza di verificare cosa prevede il progetto presentato da Edison per la realizzazione di un deposito di GNL nel porto interno. L'allarme, come è noto, è stato lanciato su due fronti. Da una parte, il candidato sindaco del Movimento Regione Salento, Lino Luperti, ha denunciato il mancato coinvolgimento delle istituzioni locali e del mondo produttivo sui possibili ritorni economici e occupazionali, rivenienti dalla costruzione del cosiddetto bombolone. Simultaneamente, l'ex sindaco Riccardo Rossi e alcuni movimenti ambientalisti hanno sottolineato la difformità del progetto rispetto a quello iniziale, soprattutto in riferimento alla realizzazione di una torcia in verticale di 45 metri rispetto alla torcia a terra di cui si era parlato in primo momento. Circostanza questa, poi verificata da gran parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, nonché da movimenti e organizzazioni sindacali. Edison, insomma, avrebbe sostanzialmente cambiato le carte in tavola e questo non va giù proprio a nessuno. A cominciare dal sindaco Marchionna, il quale dapprima aveva fatto intendere di non volersi più occupare di questa vicenda, per poi denunciare apertamente la scorrettezza nei rapporti con le istituzioni da parte dell'azienda. A questo punto, pertanto, mentre cresce di giorno in giorno il numero di adesioni alla manifestazione di protesta che si svolgerà il prossimo 24 agosto, si tratta di stabilire come dovrà avvenire il confronto. C'è chi spinge per un chiarimento tra Marchionna ed Edison, chi vorrebbe la presenza di Edison alla conferenza dei capigruppo e chi chiede una seduta monotematica aperta del Consiglio Comunale, in maniera tale da consentire alla città di partecipare a scelte di questa portata. Un dato è certo, comunque vada, appare ormai chiaro che essendo stato modificato il progetto, l'itero autorizzativo dovrà ripartire sostanzialmente da zero. Un aspetto che forse neanche Edison aveva valutato e che rimette in forza anche la stessa realizzazione dell'impianto.